Nei giorni in cui le piscine e le naedi potrebbero riaprire, tornano le fibrillazioni sul fronte occupazionale. I lavoratori, riuniti in assemblea lo scorso 14 maggio, hanno aperto una fase di mobilitazione permanente per sensibilizzare tutte le parti in causa, chiedere alle istituzioni di trovare un modo per assicurare l'immediata riapertura del centro sportivo e garantire una prospettiva a quanti operano e lavorano al loro interno. Appena lo scorso 15 marzo il Consiglio Comunale Straordinario di Pescara impegnava, sindaco e giunta, al trasferimento immediato della gestione temporanea dell'impianto sportivo dalla regione allo stesso comune e alla salvaguardia integrale dei livelli occupazionali utilizzati per il funzionamento delle piscine nell'ultimo quinquennio. A poco più di due mesi da quella data, lanciano così l'allarme in una nota congiunta i sindacati SLC, CGL e Fisascat CISL, i cancelli delle naedi continuano a rimanere chiusi, continuiamo ad assistere a un vero e proprio balletto delle responsabilità sulla riapertura. Nel dibattito pubblico sembra quasi smarrito il ruolo che riveste la struttura da un punto di vista sociale ed economico e ora più che mai assume rilevanze del problema legato all'occupazione impegnata nel centro sportivo. Stando alle attuali disposizioni governative, continuano i sindacati, il 15 maggio doveva essere la data della riapertura al pubblico delle piscine all'aperto? Oggi anche questo obiettivo risulta miseramente sfumato per le naedi. È chiara la responsabilità di tutte le parti in causa? Quella di non essere riusciti a individuare una soluzione in grado di rispondere all'emergenza e dare prospettive al centro sportivo e ai suoi lavoratori. Dopo quasi due anni dal bando pubblico che ha assegnato la gestione provvisoria, nulla è cambiato. Siamo ancora in attesa di capire se esiste, concludono i sindacati, un progetto di rilancio. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!